Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Nuovo video su Call of Duty Advanced Warfare perché è arrivata una notizia veramente molto importante dal profilo Twitter della Sledgehammer Games, la casa di sviluppo del titolo. Da domani 9 di luglio arriveranno esclusivi gear set sul gioco che potremo trovare all'interno dei supply drop avanzati, quindi dei lanci e dei rifornimenti avanzati. Vediamoli bene nel dettaglio, Samurai di cui si era già intravista un'immagine giorni scorsi che secondo me spacca veramente di brutto, sarà secondo me un gear set fantastico, infatti viene incluso tra i gear set leggendari. Passiamo a vedere poi abbiamo Arachnid molto particolare che ricorda molto Medusa come genere e Deep Sea Diver che praticamente sembra proprio la struttura e il costume utilizzato ovviamente per andare sott'acqua. Quelli là di una volta oppure sembra quasi quelli per andare sulla luna però se metti Sea sicuramente è legato al mare. E gli altri due che spaccano sicuramente come Samurai sono Lukadar che ricorda molto il genere tipo Iron Man, questi personaggi della Marvel come gear set quindi veramente fantastico. E Clown che secondo me è la più bella, secondo me Clown dà una pista anche a Samurai perché ne ricorda tantissimo Joker di Batman ed è semplicemente fantastica. Secondo me molto va a ricordare la mappa proprio dove c'è il Clown al centro molto particolare introdotta con i DLC di Call of Duty Advanced Warfare. Quindi metterei al primo posto Clown, al secondo Samurai e al terzo Lukadar. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questi esclusivi gear set che arriveranno domani in esclusiva temporale su Xbox e poi un mese successivamente sulle altre piattaforme. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace al mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.